Quali sono gli effetti del basso livello di zucchero nel sangue? Gli effetti del basso livello di zucchero nel sangue, noto anche come ipoglicemia, di solito includono vertigini, visione offuscata e sudorazione. Alcune persone possono anche iniziare a tremare e sperimentare depressione e ansia. Quando il livello di zucchero nel sangue è grave, può causare svenimento, convulsioni e confusione mentale. Nella maggior parte dei casi, gli effetti del basso livello di zucchero nel sangue possono essere rapidamente invertiti se alla persona che sta vivendo i sintomi viene somministrato qualcosa di alto contenuto di zuccheri da mangiare. Se la persona diventa troppo malata per mangiare o sviene a causa di poco zucchero nel sangue, potrebbe essere necessario somministrare iniezioni di glucosio il più rapidamente possibile. Un basso livello di zucchero nel sangue può essere il risultato di molte cose diverse. Non è raro che le persone con diabete o a rischio di sviluppare il diabete abbiano l'ipoglicemia. Le persone che si bloccano frequentemente dieta e dimagriscono molto rapidamente potrebbero anche avere problemi con poco zucchero nel sangue. Inoltre, potrebbe essere un effetto collaterale della malattia renale o epatica. Le persone che spesso sperimentano gli effetti del basso livello di zucchero nel sangue dovrebbero chiedere consiglio ai loro medici per determinare perché sta accadendo. La maggior parte delle persone che sono ipoglicemiche cercano di mangiare qualcosa di zuccherino per sentirsi meglio quando stanno sperimentando gli effetti del basso livello di zucchero nel sangue, ma questo potrebbe non essere sufficiente per tutti. Talvolta, i medici raccomandano alle persone con basso livello di zucchero nel sangue di utilizzare kit di glucosio domestici per aumentare rapidamente i livelli di zucchero nel sangue se si verifica un episodio ipoglicemico. Questi kit contengono tipicamente colpi di glucosio che possono essere rapidamente somministrati per riportare livelli pericolosamente bassi alla normalità. È possibile che una persona muoia se i livelli di zucchero nel sangue diventano troppo bassi. Questa possibilità è rara per la maggior parte delle persone con ipoglicemia, ma è comunque importante aumentare i livelli di zucchero nel sangue il più rapidamente possibile prima che i sintomi peggiorino. Le persone che hanno problemi di ipoglicemia possono essere in grado di aiutare a prevenire l'insorgenza dei sintomi prendendo alcune precauzioni extra. Una dieta sana ed equilibrata è di solito una delle prime cose che la maggior parte dei medici consiglia per le persone con basso livello di zucchero nel sangue. Gli alimenti ricchi di fibre, proteine e la quantità necessaria di vitamine e minerali possono aiutare a mantenere normali i livelli di zucchero nel sangue. Potrebbe anche essere una buona idea per una persona ipoglicemica controllare la sua glicemia prima di ogni pasto che lei mangia per aiutarla a fare le giuste scelte alimentari. Gli effetti del basso livello di zucchero nel sangue possono essere scongiurati se una persona si sforza di mangiare diversi piccoli pasti durante l'intera giornata anziché solo tre pasti in tre orari prestabiliti.